L'accordo prevede forti sconti rispetto alle tariffe che normalmente le assicurazioni generali applicano rispetto al mondo dell'impresa, al mondo anche del cittadino, perché veramente la convenzione spazia su quasi tutto il mondo assicurativo. Sapete che le assicurazioni in generale tendono ad assicurare ogni aspetto della vita, sia dal punto di vista personale del cittadino che dall'impresa. Le assicurazioni generali, il dottor Bartolucci che è l'agente generale, ha veramente compiuto un grosso sforzo per venire incontro alle esigenze di quello che sono gli associati di confesarcenti, che ripeto non sono solo imprese ma sono anche cittadini. L'accordo prevede la distribuzione dei prodotti generali, quindi tutti i prodotti dedicati alle imprese e alle famiglie, con delle condizioni economiche e normative agevolate rispetto al normale. Insomma, quindi i prodotti che spaziano dalla protezione delle attività commerciali, alla protezione delle attività artigianali, alla protezione delle attività soprattutto ricettive e turistiche. Adesso che andiamo incontro anche forse, spero, a un'esplosione del turismo a Pesaro anche per il 2024, con prodotti innovativi e condizioni economiche di agevolazioni importanti per i clienti.